Tragico incidente sul lavoro a San Severino, un operaio precipita dal tetto di un'azienda e muore dopo un volo di 15 metri. Pascoli, Verga, Segre, Colombo e il Nobel Parisi maturandi alle prese con il tema di italiano, domani la seconda prova scritta diversa per a ciascun indirizzo. Devo dire che non me le aspettavo così, penso che ci siano venuti incontro, comunque sono temi che erano intrattabili. Riparte il cantiere alla darsena borghese a Fano, più verde, nuove panchine e pavimentazione, entro un mese la fine dei lavori. Per gli obiettivi raggiunti nello sport e per il percorso esemplare a Urbino, conferito sigillo d'Ateneo alla CT della Nazionale Femminile di Pallavolo, campione d'Europa Davide Mazzanti. Passaggi Festival ha conferito il premio giornalistico Andrea Barbato all'inviato di guerra Lorenzo Cremonesi, stasera in piazza 20 Settembre il prefetto ed ex capo della polizia Franco Gabrielli e la giornalista Mario Giordani. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Aveva 54 anni, l'operaio morto questa mattina dopo essere precipitato dal tetto di un'azienda di San Severino Marche, in provincia di Macerata. L'uomo Palomino Grimaldo Loizza, di origine peruviane, si trovava sul tetto della Conchimer, un'azienda di fertilizzanti situata in località Rocchetta. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe caduto mentre era impegnato in un intervento di pulizia dell'impianto fotovoltaico. Purtroppo il volo di circa 15 metri non gli ha lasciato scampo. Ora l'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dell'Asur. La vittima, che si era trasferita nel Maceratese da una ventina d'anni, lascia la moglie e quattro figli. Dopo due anni nei quali i maturandi sono stati alle prese con un solo maxi orale a causa della pandemia, sono tornati gli iscritti all'esame di Stato. Questa mattina più di 13 mila alunni marchigiani hanno affrontato la prima prova di italiano predisposta su base nazionale. Allora, vediamo com'è andata. La via ferrata di Giovanni Pascoli, la novella nedda di Giovanni Verga, il cambiamento climatico con Giorgio Parisi, un brano dal libro di Liana Segre e Gerardo Colombo, ma anche il Covid, la musica, i rischi della rete e i social network. Alle 8.30, 13.700 marchigiani, di cui più di 3.000 della provincia pesarese, sono tornati sui banchi di scuola per affrontare la prima prova dell'esame di maturità. Quest'anno, infatti, per i ragazzi nessuno sconto. Dopo un biennio in versione light sono state confermate due prove scritte e una orale. Oggi i candidati hanno avuto sei ore per sviluppare una delle sette tracce predisposte dal Ministero dell'Istruzione e suddivise nelle tre diverse tipologie, analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica di carattere espositivo su tematiche di attualità. Sono iniziati questa mattina gli esami di maturità per i ragazzi di quinta. Ci troviamo al campus di Fano, alle mie spalle, il liceo Nolfi Apolloni, in cui i ragazzi hanno sostenuto la prima prova scritta di italiano. Andiamo a sentire le loro impressioni. Quale traccia hai scelto? Allora, io ho scelto la B2, che parlava dell'importanza della musica, che tanto è un tema che hanno i giovani, interessa parecchio. E devo dire che non me le aspettavo così. Cioè, penso che ci siano venuti incontro. Comunque sono temi che erano trattabili. Io sono molto contenta, almeno. Quindi sono temi adatti a voi giovani, che vi sono piaciuti soprattutto? Personalmente sì, anche gli altri, comunque avendoli letti. Spero per tutti. E questi giorni invece è soltanto studio o anche un po' di svago? Mare, assolutamente mare. Studio al mare sotto l'ombrellone. Io ho scelto la traccia sulla pandemia e speriamo sia andata bene, dai. Vediamo. Quindi è un tema di attualità? Sì, esatto, la traccia C. E sei pronto per la prova di domani? Speriamo, dai. Ho studiato matematica tutto l'anno, quindi ci si prova. Fino alla fine non si sa niente, diciamo, dai. Io ho scelto la traccia B2, che era sulla musica, un testo argomentativo. E puntavo tutto su questo, perché matematica è molto più difficile, quindi penso sia andata bene. Anche io ho fatto la stessa traccia sua. Siete pronti per la prova di domani? Sni? Assolutamente no. Però allo scientifico penso che matematica sia la materia più difficile e portarsela anche all'esame penso che sarà ancora molto più difficile. Quindi provremo a fare il possibile e poi dopo si vedrà, si vedrà agli orali. Speriamo bene, è stata tosta, però sono abbastanza tranquillo, sì. Quale traccia hai scelto? Ho scelto la traccia B, dove c'erano delle domande dove rispondere e poi argomentare il tutto. Quindi il mio era su Liliana Segre, quindi sono abbastanza tranquillo, ecco. Ti sono piaciute le tracce in generale? No, tranne la mia non le ho trovate molto, diciamo così, nei miei gusti, ecco. Che materia vi è capitata all'esame di domani? Scienza umane, che è la materia di indirizzo. Sei pronto? Speriamo, un po' di ansia. Le tracce erano abbastanza semplici, si scriveva bene, non c'erano particolari problemi. Quale traccia hai scelto? La C2, quella di attualità. Parlava dei social network, delle varie connessioni, anche dei vari problemi che possono causare. Quindi delle tracce comunque per voi ragazzi? Sì, erano tracce abbastanza attuali e che riguardavano anche noi giovani, quindi sì, tutto bene. Per la prova di domani sei pronto? Diciamo di sì, anche se sono un po' incerto, perché appunto con la prova di scienza umane non sappiamo bene cosa aspettarci, quindi è un po' così. Invece questi giorni anche un po' di mare o solo studio? No, questi giorni solo studio. E la prima prova è andata? Quale tracce hai scelto? Ho scelto la A2, c'era un testo di verga su NEDDA e ci ho provato. Pensi sia andata bene? Ho scritto abbastanza, quindi sono tranquilla, sì. Sei pronta per l'esame di domani? No, non è vero. Anche per domani sono abbastanza tranquilla, mi preoccupa più l'orale. Quando avrai l'orale? Il 29. Ho scelto il tema attuale, la tipologia C2. Come pensi sia andata? Oh bene. Trattava di come la tecnologia abbia cambiato un po' le nostre vite, i nostri modi di fare e era incentrato sulla comunicazione di massa e tutto il resto. È stata più la tensione che ha dato un po' di difficoltà, ma alla fine non era niente di così complesso, mi aspettavo una cosa più difficile. Di che indirizzo sei e quale materia avrai alla seconda prova di domani? Io sono del Seneca, quindi grafica e comunicazione. Il giorno dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle con l'addio di Di Maio, la capogruppo in consiglio regionale, Marta Ruggeri, ha precisato la sua posizione. Come da ieri sera, ha detto la consigliera, tante persone mi stanno contattando per chiedermi da che parte sto. Io sto dalla parte delle migliaia di elettori marchigiani che alle elezioni regionali del 2020 hanno votato il simbolo e la lista del Movimento 5 Stelle, nella quale ero candidata. Sto dalla parte del programma, ha aggiunto, che ho promesso di portare avanti. Sto dalla parte di un ruolo istituzionale che mi impone la serietà di mantenere gli impegni e di non rompere il patto di fiducia e di lealtà con i cittadini. Non si abbandona la nave nel mare in tempesta, ma si dà una mano per tenere la barra dritta e magari per ritrovare la rotta. Credo che dopo la bufera, ha concluso Ruggeri, il Movimento debba ripartire dai territori. Ricominciamo dal basso, ricominciamo da dove tutto ha avuto inizio. Cambiamo argomento. Dopo un periodo di fermo dovuto alla morte del titolare dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto, oggi finalmente sono ripartiti i lavori alla Darsena Borghese. Servizio di Filippo Pucci. Sembra non avere fine la vicenda della Darsena Borghese di Fano, uno dei luoghi più caratteristici della nostra città. Ma questa volta qualcosa pare andare dal verso giusto. Infatti, dalla giornata di oggi, la nuova ditta appaltatrice, dopo il passaggio dei documenti sulla prosecuzione dei lavori da parte della precedente, è al lavoro per concludere in tempi celeri la riqualificazione di una delle location più amate dai fanesi. Attualmente la parte della Darsena è conclusa, manca solo l'installazione di due panchine in legno e alcune rifiniture. Quello che resta da fare è la parte verso il porto, ovvero il camminamento in futuro, chiamata passeggiata romantica. L'assessore Brunori, insieme agli operai e ai responsabili della ditta, hanno eseguito un sopralluogo per dare finalmente inizio e una fine al cantiere. Sono lieta di annunciare la ripartenza dei lavori qui alla Darsena, ci siamo presi un impegno e l'impegno verrà rispettato, con un po' di ritardo, un ritardo che non è dovuto agli amministratori nella nostra lentezza, ma a tutti quegli atti burocratici che sono naturalmente dovuti dopo il decesso che è avvenuto da parte del titolare della vecchia impresa. Questo pomeriggio subito cominceremo a mettere a dimora le panchine, le sedute, quindi della parte della passeggiata. Ieri sono state sfalciate le scarpate e nei prossimi giorni verranno rinverdite con tanta vegetazione colorata. Successivamente verrà realizzata la nuova pavimentazione. Il tutto si dovrebbe concludere per metà luglio, con una data finalmente definitiva, per restituire alla città questo posto meraviglioso, che sarà un posto con una suggestione romantica, ma anche con tante sorprese. Per cui la prossima volta che ci vedremo in questo spazio sarà proprio il giorno dell'inaugurazione. Una delle caratteristiche di questo luogo, che non solo verrà reso fruibile e naturalmente abbellito, ma sarà anche un luogo dove verranno proiettate delle immagini della nostra cara città e saranno sempre visibili nella fase notturna. Abbiamo messo a disposizione due videoproiettori che saranno funzionali poi a tante altre attività culturali della città strada facendo. Diamo un spazio alle vostre segnalazioni e partiamo dalle foto che un nostro reporter di strada ha scattato in via Rizzoli e in via Padalino a Gimarra di Fano. Guardate lo scempio, ci ha scritto non potevano asfaltare tutte le strade per bene? Invece da Sassonia di Fano ci sono arrivati due scatti per mostrare sia la situazione del verde adiacente alla passeggiata dell'esippo sia la vegetazione che circonda l'ex Manfrini che copre la visuale di ciclisti e pedoni creando una situazione di disagio e di pericolo visto che anche i pali dell'illuminazione sono coperti. Ed ora passiamo al video girato in via Fa di Bruno a Ponte Sasso di Fano per denunciare la scarsa manutenzione delle strade del verde pubblico. è inconcepibile la differenza con le altre parti della città di Fano ci ha scritto nel messaggio la segnalatrice anche noi paghiamo le tasse e più volte abbiamo chiamato l'ufficio preposto. Sono stanca di vedere questa situazione. tra poco ci crescono le piante alte non so quanto vorrei sapere se una volta all'anno ma non agosto o a settembre almeno a giugno potesse essere pulita ci spostiamo ora a Urbino dove questa mattina il rettore dell'università Carlo Boa ha conferito il sigillo d'Ateneo all'allenatore della nazionale femminile italiana di Palavolo Davide Mazzanti Un percorso professionale esemplare che lo ha condotto a ricoprire incarichi di grande responsabilità in campo agonistico provvisto di una innata capacità di generare fiducia è riuscito a costruire un team di indiscutibile identità rendendo ogni singolo atleta parte di un progetto collettivo vincente con questa motivazione il magnifico rettore dell'università di Urbino Carlo Boa Giorgio Calcagnini ha conferito il sigillo d'Ateneo all'allenatore della nazionale femminile italiana di Palavolo Davide Mazzanti Nato 45 anni fa Mazzanti ha un palmares di tutto rilievo che come guida tecnica in A1 comprende uno scudetto e una supercoppa a Bergamo uno scudetto a Casal Maggiore e uno scudetto a Conegliano responsabile del Club Italia ha guidato la nazionale Juniors Azzurra dal 2012 al 2014 e quindi in qualità di commissario tecnico della nazionale maggiore ha conquistato la medaglia d'argento ai mondiali del 2017 la medaglia di bronzo agli europei del 2019 e quella d'oro agli europei del 2021 battendo la Serbia è stato insinito di numerosi riconoscimenti tra cui la palla di bronzo con il premio di Enrico Barzangina il premio per Dei Menarini e per tre anni il premio di miglior attivatore italiana per queste motivazioni l'Università degli Studi di Cittadino tra l'Università degli Studi di Cittadino Riconosciamo appunto il raggiungimento di obiettivi molto importanti nello sport e come ho detto prima è un anno anche particolare quindi diciamo in occasione del ventesimo anniversario della fondazione della scuola prima della facoltà adesso della scuola di scienze motorie premiare anche un nostro laureato è una cosa che ci fa molto piacere quindi abbiamo preso queste due cose insieme dopo il conferimento del sigillo d'Ateneo Mazzanti ha pronunciato l'Alezio Magistralis dal titolo Competere l'arte di restare alunno una condivisione così era inaspettata va oltre ogni mia previsione è bello perché oggi ho rivisto tante persone ho sentito tante persone e credo che sia oltre al riconoscimento il fatto di aver condiviso questa gioia con tutte le persone che mi hanno portato fino a qua visibilmente emozionato Mazzanti ha sottolineato l'importanza di far emergere il lato umano i supereroi non esistono a detto esistono gli uomini che vacillano, che cadono, si rialzano e imparano cose nuove la mia storia è proprio questa poi il messaggio rivolto ai giovani credo che il talento di ognuno abbia bisogno di tempo e quindi da una parte dico ai ragazzi di avere visioni ambiziose e dall'altra parte che se non vedono ogni tanto il talento è normale e di avere pazienza e del consiglio più di cuore perché forse è la cosa su cui ho sofferto di più quando avevo la loro età e che magari può servire di più ai ragazzi quando si mettono a confronto con la vita e magari non vedono dove poter eccellere Dalla sigilo di Ateneo al primo giornalistico Andrea Barbato che ieri sera durante il festival Passaggio è stato conferito all'inviato di guerra Lorenzo Cremonesi Sono vissuto a lungo nei conflitti tra i soldati al fronte più ancora con le popolazioni colpite negli ospedali assieme ai profughi cercando di comprendere le loro ragioni e spiegarle intanto in Europa si magnificava il nostro come uno dei periodi più pacifici nella storia ma come vediamo oggi in Ucraina la guerra è sempre parte di noi e l'avevamo solo rimossa Per Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera in prima linea sui fronti più difficili in Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan, Siria, Libia e Ucraina il conflitto armato è il punto di vista ideale per ripercorrere la sua storia e quella del mondo in cui viviamo A Passaggi Festival, prima di presentare il suo libro Guerra Infinita 40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina edito da Solferino ha ricevuto a distanza il premio giornalistico Andrea Barbato Cremonesi infatti era in collegamento video dal Donbass Quando finisce la guerra fredda che era la regola della forza per Antonio Malte noi viviamo nell'illusione che non ci sia più guerra invece no, è semplicemente che gli americani hanno il monopolio della forza e quello che Putin sta facendo alle nostre forze sta riportando questo principio quindi sono più forti e ti do al suo elemento più elementare il premio barbato a Lorenzo Cremonesi è qualcosa che riempie di gioia noi come comitato scientifico intanto perché e me come giornalista voi intanto perché è un inviato di guerra raccontare ciò che sta accadendo nel Donbass in questa strana guerra che torna al novecento è un elemento importante per tutti i cittadini sapere quello che accade si deve diffidare dalle fake news si deve pensare che comunque chi è sul campo chi è che racconta ciò che vede è come se a lui prestassimo i nostri occhi per capire quello che sta succedendo là per questo è un premio che forse più di tanti altri definivano in questo modo a quest'anno non poteva che non arrivare ad uno degli inviati di guerra che sta raccontando quello che sta accadendo nel mondo a conferire il premio l'assessore al turismo Etienne Lucarelli e Ivana Monti Barbato moglie del giornalista scomparso prematuramente 26 anni fa Andrea Barbato giornalista della carta stampata e della televisione con i suoi scritti e con la sua presenza televisiva ha sempre sollecitato la riflessione dei cittadini e ha sempre creduto nell'intelligenza dei cittadini sia per la comprensione che per la volontà di cambiare le cose sempre in meglio è stato davvero un grande giornalista engagé come si dice in francese impegnato per il miglioramento delle cose e per un mondo migliore altri riconoscimenti verranno conferiti nei prossimi giorni venerdì Dacia Maraini riceverà il premio Passaggi Carlo Tavagnoli il premio Fuori Passaggi sabato sera mentre il premio speciale della decima edizione andrà a Francesco Guccini domenica 26 intanto Passaggi Festival dopo l'appuntamento delle 19.30 con Roberto Saviano proseguirà questa sera dalle ore 21 con tanti altri ospiti la scrittrice Maura Gancitano sarà al Pincio di Fano mentre la piazza ospiterà il prefetto ed ex capo della polizia Franco Gabrielli e il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano La partecipazione è veramente eccezionale del pubblico che arriva a Passaggi ma perché questi racconti di attualità di storia di grande cultura della nostra Italia ci fanno crescere tutti Tronde da parte di Passaggi Cultura che ringrazio fin d'ora c'è stata in questi dieci anni veramente una grande intelligenza quella di partire dalle sedi principali di Piazza 20 Settembre con i grandi autori e del Pincio con fuori Passaggi per oggi innovare anche con altri rassegni che guardano all'innovazione che guardano al digitale che guardano ad altre rappresentazioni quindi veramente una crescita importante noi ovviamente non solo siamo vicini a Passaggi dal punto di vista organizzativo ma ormai tutte le istituzioni come il Teatro della Fortuna come la Memo Montanari diciamo tutte le attività economiche cercano di rappresentare al meglio questo momento ecco questo succede solo quando tutto si radica nella città e la manifestazione stessa diventa la città in questa settimana il 25 e 26 giugno a Fermignano si svolgerà la quarta edizione di Popoli in Festa il festival che celebra l'integrazione dei popoli e delle culture del pianeta previsti incontri esibizioni spettacoli tradizioni gastronomiche e tanto altro l'evento riunirà sette gruppi provenienti ad esempio da Albania Italia Marocco Nigeria Senegal Pakistan e Ucraina invece nella sala Pierangeli della provincia di Pesero Rubino sono stati presentati percorsi turistici nell'entroterra da parte del gruppo di azione locale del Montefentro valorizzare tesori nascosti dei piccoli borghi dell'entroterra affinché vengano riscoperti dai turisti mediante esperienze uniche e questo è l'obiettivo di Xcover un progetto europeo di cooperazione trasfrontaliera Italia-Croazia in questi giorni è la sua conclusione i nuovi itinerari sono stati presentati dal Gal Montefentro si tratta di percorsi tra cultura e natura in particolare nelle terre dei comuni di Belforte Alisauro Lunano e Sasso Corvaro Auditore ci siamo concentrati su questi tre comuni per andare a identificare le risorse turistiche già presenti in realtà che già esprimono un loro valore ma che ancora non sono state sufficientemente valorizzate nel mercato perché non ancora conosciute è un progetto che comunque è una parte del lavoro che svolge il Gal Montefentro per accompagnare come dicevo la crescita di tutti i propri comuni tutti i propri 27 comuni Gli itinerari sono stati sviluppati attorno a due macro tematiche da un lato arte e cultura con la visita a monumenti e castelli pievi e chiese dall'altro lo sport e il relax dal trekking all'equitazione fino alla canoa grazie al lago di Mercatale il tutto senza dimenticare l'enogastronomia con eccellenti produttori di miele e birre artigianali tartufi olio e formaggi turismo è un segmento un settore importante che noi cerchiamo di sviluppare anche realizzando progetti come questi dove la natura le caratteristiche di questo bel territorio rurale che cultura natura sono asset fondamentali per lo sviluppo per la crescita per l'attrattività di questo territorio il nostro introterra ha tanto da offrire ai turisti ha dichiarato il presidente della provincia Giuseppe Paolini mi auguro che chi raggiungerà il nostro territorio possa essere attratto anche dai percorsi proposti e approfittarne per visitare le aree interne e i piccoli grandi gioielli che si racchiudono credo che oltre alla rivalutazione storica del collegamento che c'era tra le due sponde il turismo sia una cosa che portando delle persone nel Monte Feltro nell'Alto Monte Feltro possa far conoscere la bellezza del nostro territorio e mi auguro che poi anche noi si vada in Dalmazia che è veramente molto bella per cui mi auguro che abbia successo il progetto presentato dal Galle è molto interessante a dimostrazione del lavoro fatto dai tecnici del Galle del Galle Monte Feltro grande soddisfazione per Flavia Morelli per la bocciofila Lucrezia e per le bocce marchigiane la campionessa 23 è stata convocata dalla CT della nazionale femminile germana Canterini per i giochi del Mediterraneo che partiranno il 25 giugno in Algeria Flavia giocherà nella specialità della coppia femminile della Raffa insieme alla Bresciana Ilaria Treccani da decidere ancora chi tra le due scenderà in campo nell'individuale in Algeria sarebbe dovuta volare Jessica Gelosi altra atleta del Lucrezia ma un infortunio dell'ultimo minuto l'ha tenuta fuori dalla competizione la Morelli ha tutte le carte in regola per aumentare i suoi successi internazionali Flavia ha già vinto tre medaglie d'oro europee nell'individuale Under 23 coppia mista e a squadre Ringraziamo come sempre i sostenitori di Fano TV un grazie speciale va a Oliana Sabatini Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato a De Camerone 2022 che si è svolto nei giorni scorsi al prelato di Fano Buona serata a tutti Grazie a tutti